la sedia no la telecamera la metto qua non la lascio qui tranquilla no perché mi sei riconvinte ecco il mio ce la faccio ok no no ho fatto ah sub diego oliphant's kree esatto meglio una sub qui non lo so come ho fatto oliphant's kree posso vedere no si scherza ok faccio una reaction ovviamente non farlo vedere lì farlo vedere a me e io faccio una reaction no 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 così faccio una reaction fatta bene faccio far di così ma come stai facendo qui non lo so che ditta no no ma questi si muovono anche? si si ma qua c'è un video nel feed quindi non posso niente basta voglio andare avanti voglio andare avanti voglio andare avanti scresci mi che guazza di me perché mi avete preso ti vuole? no 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 ragazzi ecco ma si possono fare no non si possono fare le battute black humor assolutamente no la vedevo meglio da lì la vedevo meglio cioè non lo so no ragazzi ho finito le sigarette e quindi devo fare le sigarette rollate con le cartine perché ho il tabacco ancora vecchio e quindi faccio si è letto con le cartine con le cristine stavolta occhio cristina che la notte è rotta no un microfono lontano ah beh si è vero eccolo quante cristina sincera quante volte hai fatto sesso con una persona del tuo stesso sesso due chi erano? non si dice si è baggato direi no per sapere chi erano no non ti dico chi erano perché no? no non si dice sesso completo non sesso completo sesso completo ah sesso completo con due ragazze che non si dice chi erano adesso l'ho portato l'altra l'ho portato l'altra le punti tu? beh sono quelle che sembrano essere quindi è un gran problema facciamo vediamo chi riesce a rimorchiare di più abbiamo già trovato a fare questo al 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 gamesweek eh vabbè ma che è più facile possiamo rimorchiare streamer ok è un po' too much eh? so se è un po' too much si iniziare a rimorchiare streamer vabbè vuoi andare in fastidio qualcuno? si ok un po' divertire lascia che ne pensi di social non mi frega un cazzo ma guarda penso che mi interessa di più che sta facendo la partita adesso chi sta facendo la partita adesso? eh non lo so però mi interessa più di social boom probabilmente neanche me ne interessa però non vanno a fare un twitch assoluto non mi frega un cazzo non mi interessa non mi interessa Cristina è il tuo ragazzo ideale si è il tuo ragazzo ideale qual è il tuo ragazzo ideale? cambia l'argomento? vabbè è il tuo ragazzo ideale vuoi dire qualsiasi cosa? non vuoi dire niente non vuoi dire niente ok allora vediamo gran cazzo i suoi ben venga anzi ma perché una volta ho visto che mandavi il cut in chat alle tipe? era una cazzata ti ho mandato mai foto delle tette in giro? solo sugli amici più stretti non metto le tette in giro no ma sto scherzando sto scherzando sto scherzando posso scherzare? e quindi è questo quello che ha fatto social boom rimorchi a Elena Fredda su Twitch ma le rimorchi a Cristina? vai no sono timida allora prima no sono timida no la scegli tu la scegli tu no sono timida cosa stai facendo? piace questa ragazza? è figa no però sono timida basta devi solo scriverle mi mandi un messaggio mi mandi un messaggio vocale vabbè non sai giocare allora no fai tu Diego dai no non sai giocare basta il circo prende piede ti prego papi non sai giocare a queste cose possiamo reaccionare alla live di Grambol no non si può non si può non si può su Twitch reaccionare davvero? sì su Twitch non si può reaccionare a Twitch no è quasi tra poco è un anno del dell'appeso è da un anno che hai tra poco è un anno di appeso Cristina ti piace Dario Moccia? di domande a caso scrivi Cristina per te bello naked e guarda cosa esce quando non lo vedono non è nuda da nessuna parte cioè sempre nuda ma sempre coperto Sì roba che trovi anche su Instagram ma sì tutti i contenuti che io questo non sono io tutti i contenuti che io posso sono pronta sono pronta a vederli riccati quindi capito non neanche che uscirò no ragazzi l'appeso non ci giocherò mai con nessun'altra persona se non con Simone cos'è l'appeso? è un gioco con le carte ma ci giocherò solo con Simone Cristina lo faresti con Panetti io a differenza di altri mi faccio gli ex dell'amica questa è una frecciatina della quale io prendo le distanze avete visto il video dei no 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 ah volevo vedere un video io una ragazza non è di che in modo è descritto un ragazzo ideale è descritto praticamente te ma vai a provarci magari trovi il tuo benvenga eh diteci il nome ma dove no no niente benvenga come niente benvenga oh questo video scusate top ragazze di me vediamo se per me è un bomba passi bomba passi eh Maria ciao ben attimo controllo sinistra eh cazzo vuoi io al mio ci devo dire una cosa del privato ah ci ho parlato un paio di giorni fa eh ci ho parlato un paio di giorni fa sì passo avanti a tutte Milano ah ok ho letto male ho letto male ho letto male ho letto male 27 stiamo facendo ho letto proprio male aspetta aspetta sì ok ok entriamo a salutare beh 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 adissima ok capito ok comunque voglio dire una cosa tra questa lista di tipe c'è quella che mi voglio scopare non so come mai ma c'è quindi wow ragazzi su questa lista delle tipe non c'è ne una che non no sto scherzando dico perché non va l'ex on the beach guarda perché ho grandi aspettative della mia vita per questo motivo qui scusatemi ok chiudi la porta che se dopo entra allora fai la brava adesso entri a salutare Beppe ok sicura ok ho capito non vi farò ma no io ho sempre paura allora un secondo qui bisogna settarla e non viene fuori perché aspettate ragazzi che adesso non mi vedete più però non mi vedete ma ci sono a prova ok 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 ah vabbè così è troppo lungo peccato perché